Sostenitore, Sostentatrice, Sostenitrice, Sostenitore Buona giornata Oggi un saluto al mio amico Marco che sicuramente farà subito questo progetto anche lui ho fatto questa modifica perché ho visto che queste saranno le cinghie che andranno poi in questi punti qui, qui e qui perché tutte le volte andare su negli alberi c'è un casino infatti gli spuntoni la superaria sono un po' una bega e con la macchinina quella che ho fatto vedere si arriva, infatti sono arrivato fino si vede la superaria ma la fatica lo buono però per andare un po' più su ho detto come faccio? L'altro giorno guardavo su internet che poi non l'avevo mai visto ma l'avevo scoperti per caso costano 150 euro ma io con ferro di recupero che là dietro laggiù in fondo ho fatto i chiamiamoli i gambarloni mettete schimati come volete qui ci va la gamba qui appoggio il piede questi sono gli spuntoni che andranno a infilarsi negli alberi e queste qui serviranno a girare con quelle fasce sia nella parte del ginocchio che nella parte della scarpa in modo che ti tiene fermo alla caviglia praticamente questi qui sono a recupero e dalle stampanti laser adesso vi faccio vedere che ce n'è anche altri modelli però questi erano i più consistenti a mio avviso avevo anche di più sottili che sono questi la gente butta via tutto invece questi qui sono i rulline delle stampanti quanti laser ed è buono perché è pieno come vedete acciaio così mi sono fatto gli spuntoni e questo è il disegno come dicevo semplicissimo adesso devo fare il carrello per alzare le macchine perché mi sono stufato di usare il cric poi andranno questa dopo dopo prende una fascia di quella che ti tiene agganciato all'albero perché nel caso che molli che vieni giù e queste sono le altre due queste sono ricordati di salvare sempre con acciaio che è migliore del basico costa poco di più non è nel caso di guardare queste speculazioni ecco così ho pensato con calma di andare su per questi signori alberi e vedere di pulirli meglio tutto qua progettino da poco vernice usata da finire che non ne avevo più fatti non è venuto proprio su perché non ne avevo più dicono la verità come potete vedere è semplice è un progetto semplice adesso sa anche asciutto come ho detto qui ci vanno le fasce anche di qua questi qui li ho fatti a taglio li ho fatti a taglio nel senso se stai ferma in modo che si possano infilare nell'albero nell'albero proprio che si vada a detto poi te man mano si sale su eccetera un salutone e buona giornata ciao a tutti